Allora sono le 9.37 buongiorno! Dove stiamo andando? Alla Selfie Room! Scusa ma sai dove devi andare? No, adesso metto la strada. Ok quante ore mancano? 6 minuti. Ok perfetto. Ok ragazzi siamo arrivati in Val Formazza e adesso scopriremo dove si trova la Selfie Room. Adesso cammina, cammina tantissimo. Radia 20.0! Va bene, grazie. Stiamo andando! Ah buongiorno! Ciao! Come siamo? Alla Selfie Room! Allora cosa ne pensate di questa Selfie Room? Bellissima! Bellissima! Soprattutto la maschera delle palline. Questa è qualcosa di magnifico. Ci sono entrata la bambina e ho deciso che festeggerò i miei 30 anni qui. Sei pronto? Pronto! Dove stiamo? Per Radio 20.0? Certo! Selfie Room! Fighissima! Veniteci mi raccomando! Buon Natale! Da Selfie Room! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Dalla Selfie Room! E' da Radio Master, Radio 20.0, Radio Rebora, Radio... E' tutto quanto mondo! Vuoi un'intervista? Quack! Anzi, vieni qua! Comunque lo devo dire ai nostri cari visualizzatori, no? Mi si chiama? Sì, sì. Followers! Assolutatori che adesso lui fra poco ci caccia. No! Avete ancora mezz'ora! Allora! Allora! Ok ragazzi! Siamo usciti! Siamo usciti, ce l'abbiamo fatta! Divertentissimo! Divertentissimo! Un'esperienza magnifica! Abbiamo fatto l'intervista e la potrete rivedere sul nostro sito! Esattamente! Giusto? Ciao! Ciao!